Avete voglia di vedere un film italiano classico ma non sapete da dove iniziare? Non sapete che titolo scegliere, che regista scegliere e che genere andare a vedere? La visione di un film italiano risulta molto più semplice e motivata se c'è qualcuno che ce la spiega, che ce la introduce, che ci crea della curiosità, dell'aspettativa nella visione. Per questo motivo, in pochi minuti, vi voglio parlare di un film italiano classico sicuramente da non perdere. Le Fanfaron in Francia, The Easy Life in America, questi sono i titoli delle edizioni straniere del film Il Sorpasso del 1962 diretto da Dino Risi e ne denota appunto il grande successo che il film ebbe non soltanto in Italia ma anche all'estero. Il film fu molto apprezzato anche dal regista Dennis Hopper che si ispirò appunto al Sorpasso per il suo Easy Rider del 1969. Si tratta di uno dei primi esempi di road movie, cioè di cinema di viaggio, e proprio il viaggio è il motore scatenante dell'intera azione del film. Un viaggio che avviene il giorno di ferragosto del 1962, quando si incontrano due sconosciuti, un giovane ragazzo universitario Roberto Mariani, interpretato da Jean-Louis Trintignan, e un signore di mezza età interpretato da Vittorio Gasman, che si chiama Bruno Cortona, che decidono di fare un viaggio appunto la giornata di ferragosto che li porterà da Roma fino alla Toscana. Si tratta appunto di un film di viaggio dove il viaggio viene considerato anche come un percorso di iniziazione del protagonista interpretato da Jean-Louis Trintignan, che appunto dall'adolescenza, dalla giovinezza, passa, grazie a tutto questo viaggio, all'età adulta. Dino Risi aveva una laurea in psichiatria, e per questo motivo le psicologie di protagonisti sono molto ben delineate. Da una parte abbiamo il protagonista, interpretato da Gasman, che è un personaggio, un celtrone, un donnaiolo, un nullafacente, che si contrappone al personaggio di Trintignan, che è un personaggio invece più riflessivo, più studioso, e proprio durante questo viaggio avrà una vera e propria evoluzione. Dino Risi introduce anche quello che è l'io pensante. Per quasi la prima volta sentiamo in un film proprio il protagonista, interpretato da Trintignan, che fa dei ragionamenti, che pensa, che fa delle riflessioni su quello che è Bruno Cortona e su quello che è il nostro viaggio. Dino Risi mortala in maniera veramente molto lucida e puntuale quella che era l'Italia dell'epoca, colta nel pieno del benessere economico, del boom economico, e lo fa mostrandoci quelle che sono le autostrade, quelli che sono i palazzi costruiti durante il boom economico, gli svaghi, cioè i night club, le spiagge, e dunque la riscoperta anche del tempo libero. E poi fa una cosa molto interessante, che a noi non sembra così innovativa oggi, ma all'epoca lo era. Cioè la colonna sonora è composta principalmente da brani di canzoni celebri dell'epoca, per cui sentirete Modugno, sentirete Peppino Di Capri, e molti altri artisti che all'epoca andavano molto di moda. Perché vedere questo film? Perché si tratta di uno dei massimi esempi della commedia all'italiano, un genere che ha avuto un grandissimo successo sì in Italia, ma soprattutto anche all'estero, per vedere la grandissima interpretazione di Gasma e Trintinian, e poi noterete anche in una parte minore una giovanissima Catherine Spack, e poi per sicuramente immergersi in quella che era l'Italia dell'epoca, del boom economico, cioè farsi proprio accompagnare dei due protagonisti, in questo viaggio alla scoperta del cinema appunto degli anni Sessanta. Tra le curiosità, durante le prime riprese del film, Jean-Louis Trintinian non era ancora stato assunto nel ruolo appunto principale di Roberto Mariani, e per cui in alcune scene compare proprio una comparsa. E il film all'inizio si doveva intitolare Il Giretto, doveva essere interpretato da Alberto Sordi, ma poi il soggetto passò in mano di Cecchigori, che aveva sottocontratto Vittorio Gasma e che ne fece appunto l'attore protagonista. Caphello Gasmaano